Io sono il diritto all'uguaglianza. Io sono il diritto al rispetto della privacy e alla vita familiare. Io sono il diritto alla libertà. Io sono il diritto ad una condanna equa. Io sono il diritto a non essere schiavizzato. Io sono il diritto delle donne. Io sono il diritto all'informazione. Io sono il diritto alle pari opportunità. Io sono il diritto alla giustizia. Io sono il diritto alla casa. Io sono il diritto alla vita. Io sono il diritto al riposo e allo svago. Io sono i diritti delle persone con disabilità. Io sono il diritto d'asilo. Io sono il diritto alla libertà di opinione. Io sono i diritti delle bambine e dei bambini. Io sono il diritto alla pace. Io sono il diritto al lavoro Io sono il diritto alla salute Io sono il diritto all'ambiente Io sono il diritto alla cittadinanza Io sono il diritto alla sicurezza sociale Io sono il diritto all'autodeterminazione dei popoli Io sono i diritti dei rifugiati Io sono il diritto alla dignità Io sono il diritto alla sicurezza Io sono il diritto di associazione sindacale Io sono il diritto alla libertà religiosa Io sono i diritti dei lavoratori Io sono il diritto alla pensione. Io sono il diritto alla democrazia. Io sono i diritti dei lavoratori migranti. Io sono il diritto alla cultura, all'arte e alla scienza. Io sono il diritto allo sviluppo umano. Io sono il diritto all'educazione. Io sono il diritto all'acqua. Io sono il diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente. Io sono il diritto al voto libero. Io sono il diritto alla protezione sociale. Io sono il diritto alla libertà di movimento. Io sono il diritto di non essere arrestato, detenuto e esiliato. Io sono il diritto alla libertà di riunione. Io sono il diritto al cibo. Noi siamo i diritti umani! Io sono il diritto al cibo.